Dopo un anno di fermo a causa della pandemia, torna a Scorrano, in provincia di Lecce, Sand Nativity, la manifestazione organizzata dall'Associazione di Volontariato Promuovi Scorrano, che permette di ammirare uno dei presepi più caratteristici d'Italia, interamente realizzato in sabbia. E se gli uomini di buona volontà, come Don Tonino Bello, San Francesco d'Assisi e Mahatma Gandhi, sono stati i protagonisti dell'edizione 2019, quest'anno la solidarietà e l'ambiente sono i temi dell'iniziativa, in programma dal 5 dicembre al 23 gennaio 2022, che vivranno nelle opere allestite presso il chiostro del Convento degli Agostiniani e Palazzo dei Jacoveris. Tra le altre due opere dedicate a Madre Teresa di Calcutta, che ha dedicato la sua vita all'aiuto costante verso gli ultimi, a Greta Thunberg, la giovane attivista svedese impegnata nella difesa dell'ambiente. Oltre ad ammirare la natività, sarà possibile realizzare un viaggio immaginario dalla terra primordiale, con la sua natura incontaminata, i grattacieli delle megalopoli, che si conclude con una grande mano che si erge dalle rovine, un monito a tutta l'umanità per sensibilizzarla a prendere finalmente coscienza dell'importanza di un equilibrio tra natura e uomo. Le opere sono state realizzate da artisti provenienti da Italia, Lituania, Olanda e Ungheria. L'inaugurazione si terrà sabato 4 dicembre alle 17 presso il chiostro del Convento degli Agostiniani.